Ciao ragazzi ben ritrovati dal vostro Marchese del Cripto, quest'oggi andremo a vedere davvero tantissime notizie infatti cominceremo con BlackRock per quanto riguarda la sua richiesta di ETF spot su Bitcoin parleremo anche di Polkadot e di Cosmos, importanti novità allo stesso tempo ragazzi abbiamo anche una cosa che sta avvenendo per quanto riguarda Crypto.com che infatti è stato accusato di manipolazione del mercato e andiamo a scoprire anche questo quindi non perdete il video, alla fine vedremo il grafico di Bitcoin, quest'oggi non vedremo il grafico di Cardano altrimenti andremo un po' troppo lunghi. Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e bene avvino. Bene questa settimana quindi come vediamo c'è un po' di verde rispetto al rosso che abbiamo visto sempre nelle ultime due settimane e quindi finalmente ci può essere un po' di ripresa però attenzione perché poi andremo a vedere anche dei grafici che ci devo fare un attimino riflettere cominciamo a dire che è stata una settimana davvero impegnativa infatti USDT aveva perso il suo peg con il dollaro seppur di qualche frazione di punto percentuale ma in questo caso l'ha persa su diversi exchange ma vi ricordo che deve far sempre riferimento lo scambio USDT su Bitfinex in questo caso come potete vedere non ha mai perso il peg perché gli USDT possono sempre essere convertiti in dollari tramite Bitfinex ora ragazzi se dovesse succedere su qualcosa a USDT non lo so non lo posso prevedere in quel caso sarebbe una catastrofe ma non è stato il caso che è avvenuto in questi giorni poi adesso parliamo dell'ETF di BlackRock l'ETF spot su Bitcoin che allo stesso tempo ha fatto salire il prezzo del Bitcoin tra sti il GBTC di Grayscale in questo caso chiaramente c'era da fare una distinzione il GBTC è un ETF sui future basato sui future quindi non ha sottostante Bitcoin reali mentre invece l'ETF spot di Bitcoin che vorrebbe realizzare BlackRock in questo caso ha come sottostante il vero e proprio Bitcoin se sarà realizzato o meno non lo so sicuramente la cosa che possiamo dire è che BlackRock ha una potenza decisamente maggiore rispetto a quella di Grayscale e difficilmente Larry Fink si espone se poi non riesce ad ottenere quello che vuole ci sono già diversi ETF spot su Bitcoin nel mercato ma in questo caso si parlerebbe del primo ETF spot su Bitcoin nel mercato statunitense quindi questo sarebbe un catalizzatore importantissimo per vedere il prezzo di Bitcoin salire e salire probabilmente anche di tanto veniamo adesso alle novità per quanto riguarda il caso Ripple SEC che ricordo essere fondamentale per tutto il settore delle altcoin il caso si avvicina alla conclusione in questo caso Brad Gerlinghouse che sarebbe il CEO di Ripple ha affermato in ogni caso che la SEC sta agendo in maniera poco trasparente ed in malafede questo probabilmente lo sappiamo è anche in questo caso il segreto di Pulcinella l'abbiamo trattato più volte nel canale la SEC non vuole dare delle normative da seguire anche perché se no in questo caso sarebbe semplice basterebbe seguirle e nessuna altcoin potrebbe essere aditata come una security qualora rispettasse questi requisiti è tutto campato in aria e così quindi Gary Gessler e company possono additare l'una o l'altra come security come meglio credono in questo caso manipolano il mercato oppure fanno fuori la concorrenza XRP in questo caso è stata anche selezionata come CBDC per la Colombia quindi potrebbe già in questo caso essere utilizzata questa blockchain per la moneta nazionale digitale colombiana quindi XRP è uno dei primi intoppi è uno dei primi principali competitor per quanto riguarda la CBDC USA e il sistema di pagamento FedNow poi non so probabilmente sbaglio ma magari fammi sapere qua sotto che cosa ne pensi anche tu poi sono state desecretate le email interne fra Bill Hinman e la SEC per quanto riguarda il caso Ripple ed Ethereum che diceva che Ethereum non fosse una security ed è emerso proprio quindi il tema che la mancata chiarezza fa comodo a qualcuno per quanto riguarda l'ETF spot su Bitcoin non c'è solo BlackRock in questo caso c'è anche la ARC che sta attendendo notizie da parte della SEC vi ricordo che come detto in precedenza quello di Grayscale non è stato approvato adesso passiamo a Polkadot e Cosmos che tramite Fetch.ai che è un progetto di intelligenza artificiale l'abbiamo già discusso vi lascio magari un video qua sopra se volete approfondire tanto tempo fa un progetto di intelligenza artificiale realizzato sulla blockchain di Cosmos in questo caso apre all'interoperabilità con l'ecosistema di Polkadot quindi tramite intelligenza artificiale sarà possibile scambiare dati fra le due blockchain prima non erano parlanti da adesso in poi con questa implementazione lavoreranno sicuramente più in simbiosi quindi ottima notizia sia per Cosmos che per Polkadot e comunque se andiamo a vedere Polkadot dove si trova sta in tredicesima posizione in questo momento il prezzo del DOT è di 4,54$ è davvero crollato a picco un po' come tantissime altcoin ma non vedo segni di ripresa dovrebbero dare maggior valore al DOT dovrebbero implementare un qualcosa nella tokenomics voci parlano di un possibile miglioramento della tokenomics da qui a breve o da qui in futuro ma per il momento questo è in questo momento il DOT serve probabilmente a poco passiamo invece adesso alla notizia che riguarda crypto.com aumentiamo un pochino è stato accusato di manipolare il mercato tramite dei market maker in questo caso vengono utilizzati anche dei market maker per tenere il prezzo in un determinato range per facilitare fondamentalmente gli schiambi ma talvolta questi market maker possono essere utilizzati per delle operazioni fraudolente in pratica possono trarre profitto manipolando appunto il prezzo di alcune criptovalute in questo caso però il vero problema è che ad accusare crypto.com sono state 5 persone con conoscenza diretta della questione queste persone non sono ben specificate non so potrei essere anch'io che ho detto questa cosa poi magari è vero che crypto.com ha licenziato una maria di persone quindi probabilmente qualcuno di loro scontento ci può essere magari ha rivelato alcune questioni interne però da lì a che siano vere naturalmente ce ne passa in questo caso Chris Marzalek il CEO di crypto.com si è difeso dicendo che è vero che abbiamo un market maker interno ma appunto serve solo per facilitare gli scambi e non per trarre del profitto questo è lo stesso identico discorso è un'accusa che è stata fatta anche a Binance pochi giorni fa una delle tante accuse che è stata fatta nei confronti di Binance io qui adesso non so se questa notizia sia vera o meno e sicuramente mi interessa poco perché in quanto crypto.com spossa diciamo poco gli equilibri perché è un exchange poco utilizzato rispetto a Binance ad esempio mi preoccupa molto di più la notizia su Binance quella si rivelasse corretta e soprattutto anche il FUD che potrebbe generare Binance è anche stato accusato di manipolazione del token BNB quindi per evitare la liquidazione hanno acquistato altri token BNB da soli quindi un po' come ha fatto FTX con il suo token FTT si si ha respinto alle accuse ma questa è una delle mie più grosse preoccupazioni che vi dico da tantissimo tempo che non è tanto se Binance sia corretto o meno il problema è che si 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 ha creato una marea di nemici questi nemici sono pronti ad affossarlo qualsiasi cosa lui faccia che sia vera o meno e quindi questo ragazzi mi spaventa perché quando dovesse crollare Binance potremmo vedere un crollo ancora maggiore rispetto a quanto visto nel caso di FTX e quindi potremmo davvero vedere le criptovalute in pratica quasi arrivare a zero diciamo che comunque sia che abbiamo possibilità di qualche rinocironte grigio e di diversi cini neri all'orizzonte che possono verificarsi però stiamo vedendo allo stesso tempo la dominance di Bitcoin salire questo perché le persone stanno appunto perdendo fiducia nelle altcoin e si stanno riversando sul Bitcoin in questo momento la dominance di Bitcoin è quasi tornata al 50% significa che il 50% di tutti i soldi all'interno delle criptologhe sono su Bitcoin guardate qui che rialzi questa notizia positiva per quanto riguarda Bitcoin non è una notizia positiva per quanto riguarda naturalmente le altcoin ed ora adesso immergiamoci nel grafico di Bitcoin che vediamo stare a 26.400 dollari che cosa è successo ragazzi? in questi periodi assolutamente nulla qui vediamo che comunque sia Bitcoin continua in questo canale discendente come abbiamo detto ormai da diverso tempo quindi da qui non si muove qui c'è stata la ripresa dopo la notizia appunto di questo ETF spot su Bitcoin da parte di BlackRock e adesso ragazzi qui ci giochiamo la partita perché? perché finché non vediamo la rottura di questo canale al rialzo non possiamo dire che c'è stata un'inversione di trend una volta che questo canale verrà rotto al rialzo se verrà rotto al rialzo la potremmo vedere una inversione di trend quindi vedere Bitcoin tentare l'assalto nuovamente dei 30-31.000 dollari però come detto nell'ultimo video mi aspetto che entro fine mese questo canale possa essere rotto sia che sia rotto al rialzo sia che sia rotto al ribasso qua dovesse essere rotto al ribasso abbiamo dunque sia il supporto dei 24.800 dollari fino ad arrivare ai 24.000 diciamo quindi insomma tutta quella zona se dovesse rompere al rialzo qui dobbiamo innanzitutto superare questa zona di resistenza questa di 27.000 dollari per poi superare la resistenza maggiore questa qua dei 30.000-31.000 dollari e qualora però dovessimo superarla potremmo vedere davvero il prezzo di Bitcoin salire anche di molto bene se vi sono stato utile pollicione all'insù perché così mi aiutate anche con l'algoritmo di YouTube e ci vediamo al prossimo del Marchese del Cripto ciao vi auguro una splendida giornata